Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per un incidente ci sono 3 km di coda tra Firenze Nord e Barberino, per un veicolo in avaria 1 km di coda tra Barberino e Aglio e 1 km di coda sulla variante di Valico tra Aglio e Firenzuola. Sulla Fipili per lavori 1 km di coda in direzione Firenze tra Empoli e Montelupo. È chiuso lo svincolo di Montelupo-Fiorentino in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 64 Porrettana all'altezza della galleria del signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Buon versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio. Grazie a tutti.